Benvenuti in questo nuovo spazio di Frontiera Web TV. Io ringrazio sempre la redazione per darci l'opportunità di parlare con i personaggi, gli attori di spicco del nostro territorio, ovviamente sotto il punto di vista politico e quest'oggi abbiamo come ospite il primo cittadino del Comune di Rieti. Benvenuto Sindaco Petrangeli in questo spazio. Io sono curioso di avere un colloquio con te. Speriamo che sia non più di 30 minuti, ma io mi auguro anche di più, perché ci sono dei temi importanti. Siamo quasi vicini ad un anno della tua elezione. A me piacerebbe sentire un po' quelli che possono essere le tue impressioni, perché sei diventato sindaco, c'era una grande forza, un grande entusiasmo in questo. A distanza di quasi un anno sono tanti i cambiamenti che tu hai potuto constatare, testimoniare e anche essere protagonista. Se tu dovessi tracciare un po' un bilancio a distanza di questi mesi trascorsi nell'amministrazione comunale, quale potrebbe essere il esito? Benvenuto, benvenuto a te Antonio e benvenuto a David per questa video intervista e complimenti per il lavoro che Frontiera svolge quotidianamente nel raccontare le vicende di questa città e di questa provincia. Benvenuti nella casa comunale e grazie per aver scelto questo luogo per questa video intervista e aver scelto il sottoscritto per chiedermi quali sono le sensazioni di chi ha avuto l'onere e l'onore e ha l'onere e l'onore di guidare questa città in un momento così difficile. È passato diverso tempo dalla mia elezione, abbiamo superato il 20 gennaio, è passato un anno dalle elezioni primarie che mi hanno permesso di concorrere come candidato del centro-sinistra nelle elezioni del maggio scorso e tra qualche mese arriveremo a un anno dal mio insediamento e dall'insediamento della mia giunta comunale. Le sensazioni sono quelle di chi sta mettendo tutto se stesso in questa impresa politica e anche personale. Abbiamo trovato un'amministrazione davvero allo sbando, disorganizzata, dove c'era un sistema di corruttela davvero esagerato che purtroppo è anche oggetto di diverse inchieste giudiziarie che coinvolgono la vecchia amministrazione e in qualche modo le modalità attraverso le quali si è governata questa città negli ultimi anni. Siamo entrati, come abbiamo detto spesso, su una nave che stava per affondare e quindi abbiamo subito cercato di prendere i primi provvedimenti per evitare che la nave affondasse e abbiamo subito capito che c'erano molte cose da fare, soprattutto dal punto di vista degli equilibri economici e di bilancio di questo comune. Purtroppo questo è un comune che per troppi anni è stato in disavanzo, è stato in disequilibrio fra entrate e uscite. Noi siamo arrivati e sostanzialmente c'era e c'è ancora purtroppo il rischio del dissesto economico e finanziario di questo ente, quindi abbiamo subito preso dei provvedimenti che cercassero di rimettere per quanto possibile in equilibrio la situazione economica e finanziaria. Quindi provvedimenti legati ai tagli dei costi della politica, ai tagli dei costi per la gestione e per il funzionamento dell'ente e abbiamo subito pensato di in qualche modo fare un esame e un bilancio di quelli che erano stati gli anni precedenti e quindi io ho subito incaricato i revisori dei conti del comune di fare un'accurata relazione, una sorta di diligence nella quale avessimo la possibilità di fotografare la situazione che noi abbiamo trovato appena siamo arrivati. Quindi sicuramente un occhio particolare alle vicende del bilancio, un occhio particolare anche alle vicende del ripristino della legalità dentro questa amministrazione. Purtroppo abbiamo trovato moltissime cose che non funzionavano, abbiamo trovato una situazione nella quale troppo spesso venivano presi dei provvedimenti illegittimi e quindi abbiamo lavorato molto su questo. Noi abbiamo detto sin dall'inizio vogliamo puntare soprattutto su tre cose, legalità, trasparenza e partecipazione e io penso che su questi tre binari ci stiamo muovendo e soprattutto iniziano a vedersi i primi risultati. Io personalmente mi aspettavo una situazione molto difficile però non pensavo che fosse così difficile. Emergenze quotidiane, problemi che sono anni che aspettano di essere risolti. Purtroppo amministrare un ente locale in questo momento probabilmente è la cosa più difficile che c'è perché viviamo in una crisi economica spaventosa che fa aumentare i bisogni e le necessità dei cittadini, soprattutto i bisogni di assistenza per chi perde il lavoro, per chi non ha un reddito sufficiente. C'è un clima di disaffezione e anche di prevenzione nei confronti della politica, nei confronti di chi si occupa della cosa pubblica, anche legittima e in qualche modo giustificata e comprensibile e quindi c'è la necessità di ripristinare la dignità e soprattutto l'autorevolezza e la legittimità delle istituzioni pubbliche e quindi c'è un lavoro di ricostruzione, soprattutto di un rapporto tra istituzioni e cittadini e poi c'è un problema contingente legato al fatto che continuano a diminuire i trasferimenti agli enti locali e quindi continuano a diminuire le risorse sulle quali poter contare per erogare servizi ai cittadini. Noi stiamo facendo delle scelte perché pensiamo che in un momento come questo c'è necessità di risanare questo comune per evitarne il dissesso e per continuare a garantire servizi ai cittadini e dunque a partire soprattutto da questo bilancio che è il primo bilancio dell'amministrazione, della nuova amministrazione del bilancio di previsione del 2013, dovremo soprattutto scegliere insieme ai cittadini le priorità per le quali investire quelle poche risorse che risultano in qualche modo gestibili dopo aver garantito naturalmente i servizi, il pagamento degli stipendi, il pagamento dei mutui. Abbiamo tantissimo lavoro da fare, ci sono tantissimi ostacoli da superare, noi vogliamo cercare di condividere il più possibile le scelte con i cittadini, c'è una partecipazione importante dei cittadini attraverso i social network, attraverso gli strumenti che abbiamo messo in piedi a partire dal nostro sito internet che tra l'altro è diventato e per questo ringrazio la ragazza che lo ha fatto, oggetto di una tesi di laurea addirittura, la riorganizzazione del sito internet del nostro comune è stata oggetto della tesi di laurea di una ragazza, Marta Paoloni, che si è laureata all'Università di Siena. Quindi stiamo lavorando molto su questo, stiamo lavorando sull'amministrazione aperta, nei prossimi giorni lanceremo il progetto che già stiamo realizzando dell'amministrazione aperta e dunque la possibilità di controllare e di verificare tutti gli atti che la pubblica amministrazione prende e dunque emana e quindi un lavoro, ripeto, molto lungo, l'abbiamo detto spesso, sarà ed è una strada in salita piena di curve, abbiamo bisogno del contributo della città, noi in campagna elettorale abbiamo fatto la nostra campagna elettorale utilizzando lo slogan mettici del tuo, c'è bisogno di questo, c'è bisogno di una città che in qualche modo collabori, c'è bisogno di ricostruire legami sociali solidali, c'è bisogno di ricostruire il senso di far parte di una comunità e da questo punto di vista l'esempio deve partire soprattutto da chi amministra e da chi governa, noi l'abbiamo fatto in uno dei nostri primi provvedimenti, la nuova giunta, il sindaco, si sono diminuiti del 15% gli emolumenti e quindi abbiamo determinato un risparmio di oltre 100.000 euro per quanto riguarda quel capitolo di spesa, il nuovo segretario generale si è diminuito del 20% l'emolumento rispetto al precedente, stiamo lavorando molto per cercare di diminuire le spese e soprattutto riqualificare la spesa di questo comune e cercare anche di aumentare le entrate facendo una politica fiscale che in qualche modo sia equa e quindi faccia pagare di più a chi ha di più e faccia pagare di meno a chi ha di meno, quindi questo è l'impegno che ci siamo presi di fronte alla città, sappiamo che ci sono tante aspettative intorno a noi, io credo che in questi mesi siamo riusciti innanzitutto a salvare questo comune, cosa che non era assolutamente semplice né scontata e stiamo mettendo le basi per realizzare quel programma ambizioso con il quale abbiamo vinto le elezioni e abbiamo convinto i cittadini creatini a darci fiducia. Noi abbiamo di fronte ai dati statistici che ci mettono in difficoltà per quanto riguarda il discorso dell'occupazione, per quanto riguarda il tema della disoccupazione del giovane da Rieti, in questo contesto mi passi come termine la maglia nera perché ha delle grosse difficoltà. Ecco, il ruolo dell'amministrazione comunale, giovane in questo contesto però efficace nelle azioni, nei programmi, quale potrebbero essere? Per dare anche un segno di speranza, io colgo anche ho l'occasione per fare un riferimento di oggi riguardo al declassamento dell'Italia in base a quello che sono i parametri internazionali sull'affidabilità, è importante anche questo, ci fa capire quanto noi come Italia ma anche come capoluogo di provincia possiamo essere efficaci in questi momenti di grandissima crisi. Ecco, a livello di amministrazione comunale quali potrebbero essere o potranno essere i prossimi progetti realizzabili per quello che riguarda l'aspetto giovane e non solo perché poi abbiamo anche qui tutto il mondo lavorativo che è in grandissima difficoltà, fuori uscita delle grandi imprese, poca opportunità per essere ricollocati e quindi grandissima difficoltà anche qui per quello che riguarda proprio l'aspetto lavoro. Ma questo, diciamo, è secondo me la vera emergenza del Paese. Io l'ho detto a chi mi ha chiesto un'opinione rispetto alle recenti elezioni politiche e ho detto in questo Paese ci sono due emergenze, la corruzione e il lavoro. Sono due emergenze, quindi lotta alla corruzione e lotta alla povertà. E io credo che proprio il lavoro debba tornare ad essere in qualche modo il tema centrale di qualsiasi politica pubblica e mi auguro che il nuovo governo di qualsiasi composizione si ponga questo obiettivo come una autentica e forse la vera priorità del nostro Paese che potrebbe determinare benefici su tutto il territorio nazionale perché poi su queste grandi questioni c'è bisogno dell'iniziativa degli enti locali ma ancora di più c'è bisogno di provvedimenti governativi che permettano agli enti locali di utilizzare risorse per rilanciare l'economia e dunque dare lavoro ai giovani. In questa città c'è un problema maggiore che è legato al fatto che purtroppo ogni anno noi siamo costretti ad osservare un vero e proprio esodo che coinvolge tanti nostri giovani concittadini che per motivi di lavoro o per motivi di studio sono costretti a lasciare questa città. Innanzitutto noi vogliamo ripristinare la legalità perché pensiamo che l'accesso al lavoro pubblico, quindi anche l'accesso al lavoro dentro questa amministrazione debba avvenire attraverso selezioni pubbliche, attraverso procedure che permettano ai giovani laureati, ai giovani di questa città di avere un'occasione e quindi tutti quelli che verranno a lavorare in questo comune dovranno necessariamente superare una selezione pubblica perché questo ci permetterà di dare occasione ai giovani laureati che in questi anni non hanno trovato occasione di lavoro pubblico di poter magari accedervi e quindi dare una speranza a chi ha qualifiche, a chi ha professionalità ma in questi anni non ha avuto modo neanche di partecipare alla possibilità di entrare dentro l'amministrazione per lavorare. Faccio riferimento ad esempio a una selezione che sta facendo l'assessorato alle politiche sociali che dovrebbe permetterci di assumere con contratti annuali o biennali oltre 20 operatori. Ebbene noi vogliamo che sia privilegiato il merito, che sia privilegiata la professionalità e la competenza e non i canali clientelari che invece in questi anni sono stati utilizzati dall'amministrazione. Noi stiamo lavorando con le associazioni di categoria per permettere ai giovani di imparare un mestiere. Qualche tempo fa abbiamo presentato il progetto Botteghe di Mestiere insieme a Confartigianato ed Ascom che è attualmente ancora in pubblicazione un bando per i giovani dai 18 ai 29 anni per chi vuole imparare un mestiere. Questa è un'iniziativa che noi in qualche modo stiamo facendo insieme all'associazione di categoria e insieme all'agenzia Italia Lavoro. Noi abbiamo da poco sottoscritto un protocollo d'intesa con Confartigianato per mettere a disposizione immobili pubblici ai giovani che vogliono intraprendere. Per immobili pubblici si intende sia stabili che terreni agricoli. Confartigianato insieme a Camera di Commercio metterà a disposizione tutto quello che serve per iniziare una nuova attività imprenditoriale ragazzi. Vogliamo lavorare anche sul terreno in qualche modo dell'imposizione fiscale per aiutare e agevolare chi vuole aprire nuove attività imprenditoriali soprattutto tra i giovani e pensiamo che ad esempio la rivalutazione e la riqualificazione del centro storico possa essere un'occasione per far nascere nuove attività economiche. Noi crediamo che sia necessario anche con l'aiuto della Regione e del Governo istituire dei fondi di rotazione che permettano ai ragazzi di utilizzare una sorta di prestito d'onore che possa permettere loro di aprire un'attività. Noi dobbiamo cercare di finanziare le buone idee dei giovani, dobbiamo cercare di finanziare le idee. È chiaro che un comune che sta cercando di evitare il dissesto difficilmente troverà risorse per fare questo ma noi vogliamo metterci a disposizione delle associazioni datoriali e delle associazioni di categoria e vogliamo cercare di trovare delle risorse anche in questo bilancio 2013 perché pensiamo che da qui possa ripartire la possibilità di rilancio della nostra economia nella consapevolezza che purtroppo la crisi che viviamo è una crisi in qualche modo epocale. Dobbiamo essere consapevoli che nulla sarà più come prima. Io sono tra quelli che pensano che questa crisi sarà lunga e non è detto che se ne esca e soprattutto non sappiamo come ne usciremo. Sicuramente ne dovremmo uscire con un altro modello di sviluppo, un'altra idea di società e anche un'altra idea in qualche modo di convivenza civile e penso che gli enti locali da questo punto di vista possano svolgere un ruolo quantomeno di orientamento della pubblica opinione e dei cittadini. Secondo lei è un momento dove ci sono idee? Cioè nel senso, mi capita di frequentare giovani per quanto riguarda la mia professione e alla domanda che io faccio a loro sempre e qui chiedo a te come amministratore pubblico è un momento in cui i ragazzi hanno idee da mettere poi a frutto in imprese, attività, professioni oppure siamo nella condizione in cui questo tipo di generazione non avendo punti di riferimento e avendo altri sistemi o altri target di riferimento vanno per una strada diversa da quella che potrebbe essere la scelta dell'amministrazione pubblica. Ma guarda, secondo me quello che bisogna fare adesso è cercare di ridare un significato alla parola futuro che sembra essere stata cancellata dal vocabolario soprattutto dei giovani e soprattutto dare un significato alla parola speranza. Io ho capito quello che dici tu, cioè tu dici probabilmente i giovani sono talmente disorientati che probabilmente non sono neanche nelle condizioni di elaborare delle idee. Io credo che le istituzioni pubbliche al contrario debbano aiutare i giovani non solo elaborarle e credo che ne abbiano di idee i giovani ma anche cercare per quanto possibile di realizzarle. Dico una cosa che secondo me è un po' il tema anche di quello che può essere la nuova economia anche in questo Paese, parlo delle nuove tecnologie, parlo della banda larga parlo di tutto quello che è legato appunto all'alta tecnologia e quindi in qualche modo all'evoluzione anche nel tema delle comunicazioni. Questa città è una città un po' strana perché è vero che vive una crisi profonda e ogni giorno, diciamo ieri l'altro ho ricevuto una lettera l'ennesima lettera di un lavoratore che stava perdendo il posto di lavoro che mi chiedeva un impegno, che mi chiedeva un'iniziativa istituzionale quindi ci sono imprese che chiudono i battenti il giorno, quotidianamente ma ci sono anche delle grandi eccellenze delle imprese che sono leader nel mondo imprese reatine che conquistano il mercato nazionale ma anche internazionale che conquistano premi ultimamente abbiamo avuto il premio della torrefazione olimpica guidata dalla famiglia Faraglia quindi ci sono delle situazioni in base alle quali possiamo dire che questa città può avere un futuro io credo che noi dobbiamo mettere nelle condizioni giovani di elaborare idee e di realizzarle e penso che ci sia bisogno veramente del contributo di tutti per farlo non solo delle istituzioni pubbliche ma più in generale della città passaggio sui pendolari è un tema a cui hai sempre puntato l'attenzione da quando hai preparato questa campagna elettorale e poi quando sei diventato sindaco è una delle cose a cui puoi continuare a dare attenzione è un tema serissimo quello dei pendolari cioè pensare che ogni giorno proprio ricollegandomi al discorso dell'emorragia di forza lavoro che va da Rieti in altri territori non riuscire a collocare Rieti con la Capitale nel 2013 nella stessa efficacia che altri territori fanno per ricollegare proprio la Capitale agli altri capoluoghi io vorrei capire è possibile che il Comune possa fare da stimolatore affinché queste vie di comunicazione vengano rivalutate e riqualificate per il bene di tutti o dobbiamo aspettarci e credo che la stampa l'ha più di una volta portato come esempio corse dove il sovraffollamento dei pendolari è quasi insostenibile e delle volte veniamo proprio tutti fermi a aspettare il pulmone della prossima corse io vorrei capire dall'amministrazione comunale perché poi è anche un fatto importante il servizio del trasporto pubblico diventa direi focale per quello che riguarda anche lo sviluppo economico della città ma il tema del pendolarismo è una questione che riguarda non solo migliaia di ratini che sono costretti ogni giorno a prendere mezzi pubblici per andare al lavoro ma è una questione che riguarda anche la necessità di superare l'isolamento nel quale purtroppo questa città è stata in qualche modo costretta soprattutto negli ultimi anni su questo c'è naturalmente la responsabilità primaria della Regione Lazio che è competente per il trasporto pubblico locale all'interno della Regione io nei prossimi giorni incontrerò i vertici del Codral perché la situazione dei nostri concittadini che vanno a Roma con il Codral è diventata davvero insostenibile ogni giorno abbiamo notizie di corse che vengono soppresse o di autobus che si fermano lungo la salaria molto probabilmente riusciremo a realizzare grazie a un accordo con Codral il deposito finalmente il deposito a Rieti nella zona di Vazia nell'area artigianale di Vazia un deposito che molto probabilmente sarà il deposito più grande della Regione e questo è sicuramente una buona notizia per i lavoratori ma anche una buona notizia per i pendolari perché avere un deposito così grande in città significa necessariamente legare l'azienda regionale a questo territorio e dunque alle corse che passano per la città di Rieti noi dobbiamo cercare di integrare il Codral con l'ASM e con il nostro servizio pubblico locale discutendo in giunta l'altro giorno anche con alcuni dirigenti abbiamo fatto questa considerazione che c'è molto trasporto pubblico che passa in città ci sono tanti autobus che passano tra gli autobus del Codral tra gli autobus dell'azienda servizi municipali dobbiamo lavorare insieme dobbiamo lavorare insieme facendo rete e facendo in modo che il trasporto pubblico il trasporto collettivo diventi in qualche modo un metodo per spostarsi anche all'interno della città per farlo è necessaria la collaborazione naturalmente dell'azienda regionale ma è necessaria anche una politica che metta al centro una mobilità sostenibile e metta al centro il trasporto collettivo io credo che sia necessario per far vivere meglio la città ai nostri concittadini e per dare anche un servizio migliore ai nostri pendolari che purtroppo insomma come abbiamo detto prima ogni giorno, ogni mese, ogni anno aumentano perché non essendoci occasione di lavoro in questa città purtroppo rischiamo di diventare una città di pendolari questo è uno degli impegni che abbiamo chiesto alla nuova giunta regionale al nuovo presidente Zingaretti io ho posto sostanzialmente tre priorità la questione della sanità la questione dei trasporti e la questione finalmente del risarcimento per l'utilizzo delle sorgenti peschiera alle cavore da parte del Comune di Roma quindi devono in qualche modo riconoscere a questo territorio lo sfruttamento di quelle sorgenti e quindi l'utilizzo della nostra dell'acqua che nasce in questo territorio tra queste priorità c'è la mobilità tra queste priorità c'è il trasporto penso che insomma non si può non addivenire una soluzione condivisa che coinvolga il Comune di Riedi che coinvolga i cittadini utenti e io ringrazio i ragazzi i giovani e meno giovani che fanno parte del Comitato Pendolari che è diventato un punto di riferimento per tanti e che è diventato anche un interlocutore delle istituzioni e quindi insomma su questo noi vogliamo fare il possibile e vogliamo metterci a disposizione per cercare di risolvere e per cercare di lenire i disagi di chi è costretto a fare il pendolare per motivi di lavoro Allora abbiamo toccato il tema dei giovani lavoro e occupazione abbiamo toccato in questo momento il discorso del trasporto il tema fondamentale per quello che riguarda lo sviluppo del nostro territorio è quello dell'università sappiamo che con la nuova giunta regionale qualche opportunità potremmo averne di più rispetto alla precedente per i motivi che possiamo intuire ecco cosa il Comune di Riedi sta facendo in questo contesto pensando che c'è da alimentare incentivare anche difendere ma in maniera molto più forte alimentare quello che è il polo universitario locale che in questo momento esiste vive ma ovviamente deve essere consolidato e alimentato Lo abbiamo detto lo diciamo spesso che l'università e quindi l'economia della conoscenza la cultura può essere un'occasione di sviluppo della città innanzitutto io diciamo questo tema lo guarderei sotto due punti di vista la prima questione riguarda la difesa dell'esistente noi dobbiamo organizzare gli enti coinvolti nel consorzio Sabino Universitas affinché sia garantita anche nel futuro siano garantiti i finanziamenti necessari al mantenimento del polo universitario in città perché questo è tutt'altro che scontato con la possibile soppressione della provincia con le difficoltà della Regione Lazio e con le difficoltà che insomma anche noi viviamo in maniera assolutamente evidente quindi lavorare per gestire meglio e anche risparmiare sulla gestione economica e finanziaria del consorzio per fare in modo che tutti gli enti siano nelle condizioni di continuare a partecipare al consorzio e quindi continuare a contribuire al mantenimento dell'università per lo sviluppo della stessa è necessario secondo me coltivare le nostre eccellenze e le nostre vocazioni io non credo che questa città si possa permettere o quantomeno possa pensare di ospitare in futuro grandi facoltà di massa che sono altrove noi però possiamo aiutare Roma a decentrare alcuni corsi universitari noi possiamo fare qui cose che magari non si fanno altrove e penso a studi legati alle nostre eccellenze che sono l'ambiente che può essere l'anogastronomia che può essere tutto il sistema delle acque quindi difendere l'esistente e fare in modo ad esempio che finalmente ci sia una sede unica dell'università preferibilmente in centro storico e lavorare affinché si possa implementare l'offerta formativa con corsi di laurea e con master in qualche modo legati al territorio alle nostre eccellenze alle nostre vocazioni io appena entrato ho subito detto alla giunta ma più in generale all'amministrazione noi dobbiamo difendere l'università e dobbiamo puntare sull'università e più in generale sull'economia della conoscenza per noi è un impegno molto molto impegnato molto significativo in termini economici quanto pesa quanto pesa il livello di bilancio il nostro impegno sono 600 mila euro l'anno ed è un impegno importante se pensiamo che un anno accademico costa al consorzio circa 2 milioni di euro quindi il comune stanzia 600 mila euro il comune stanzia 600 mila euro possiamo dire che nel bilancio preventivo 2013 questo cibo nel bilancio preventivo 2013 ci sono i fondi per l'anno accademico però c'è bisogno di razionalizzare anche lì c'è bisogno di studiare anche delle forme nuove e diverse di approvvigionamento dei finanziamenti tu facevi riferimento alla regione che potrebbe aiutarci nel potenziamento del nostro polo universitario noi in questo momento di crisi dobbiamo occuparci di alcune priorità e io penso che fra queste priorità c'è anche il mantenimento del polo universitario e se possibile il suo potenziamento che non significa aumentare i costi per gli enti che ne fanno parte ma significa cercare in qualche modo anche dibattere strade diverse e nuove per fare in modo che questo polo universitario attragga ancora di più studenti soprattutto da fuori c'è un tema che è quello della logistica è quella quindi della sede è quella dei servizi per gli universitari e su questo appunto c'è bisogno del coinvolgimento della città intera che purtroppo in questi anni secondo me non ha colto appieno l'opportunità di avere un polo universitario in città forse anche perché questo polo universitario è poco percepito dai cittadini e in qualche modo non è così visibile come dovrebbe e come potrebbe quindi dare visibilità al polo universitario c'è una carenza di comunicazione però da quello che emerge cioè ci sono poche attenzioni da parte di chi è universitario e di verso quello che è il tessuto sociale della città stessa non so è percepito oppure qualcosa che potrebbe essere secondo me c'è necessità di investire di più su questo ma secondo me questo riguarda un po' tutte le attività che si svolgono a riedi in città perché è una città nella quale si fanno tante cose ma nella quale poco si sa di queste cose che si fanno perché c'è comunque un tessuto associativo che si attiva e che si mobilita ieri è stato l'8 marzo è stata una giornata straordinaria perché ci sono state decine di iniziative di incontri pubblici di manifestazioni segno evidente di una città che vuole partecipare di una città che vuole discutere di una città che vuole riappropriarsi dei propri spazi e penso che questo riguardi un po' tutte le cose che fanno gli enti locali bisogna stare di più in mezzo ai cittadini bisogna discutere di più con la città bisogna aprire un dialogo con la città facendo anche presente gli sforzi che si fanno e che sono stati fatti per tenere in piedi strutture ed esperienze che possono rappresentare un'occasione di sviluppo per la città è chiaro in questo momento è molto difficile per tutti gli enti locali far quadrare i conti però secondo me ci sono alcune cose delle quali possiamo fare a meno ma ci sono delle altre cose nelle quali invece dobbiamo continuare ad investire e io penso che appunto il tema dell'economia della conoscenza e della cultura più in generale sia uno di questi abbiamo toccato tutti questi temi mi collego università al discorso centro storico perché immagino che la sede istituzionale sarà quella all'interno del centro storico e a questo punto apriamo uno dei temi che ha tenuto Banco per tanto tempo e tuttora lo è il discorso della rivautazione del centro storico con la zona traffico limitato e quello che sarà con tutto quello che riguarda il plus e tutto quello che saranno i progetti prossimi a venire per quello che riguarda la riqualificazione in questo bellissimo angolo del Comune di Rieti ecco quali sono i progetti futuri? Allora innanzitutto secondo noi rivalutare e riqualificare il centro storico significa potenziarne la possibilità di tornare ad essere luogo di residenza dobbiamo cercare di far tornare i reatini a vivere a insediarsi nel centro storico perché uno forse il principale problema che vive il nostro centro storico è quello di aver perso troppi abitanti troppi residenti negli ultimi anni e questo significa poi vedere chiudere esercizi commerciali e significa vedere un centro storico appunto che rischia di morire perché ci sono pochi residenti che lo vivono quindi una politica pubblica che deve essere indirizzata in questa direzione ossia di far tornare il centro storico ad essere luogo di residenza il luogo dove i cittadini tornano ad abitare lunedì quindi fra due giorni approveremo in giunta la delibera sulla nuova viabilità nel centro storico che determinerà a mio modo di vedere una vera e propria rivoluzione nelle vie del centro storico ci sarà una zona diciamo così una gorà la zona più alta del centro storico dal teatro fra l'espasiano all'imps e quindi subito dopo il cinema moderno e in questo è anche importante il collegamento fra i due poli culturali del centro storico sarà una zona limitata 24 ore su 24 all'accesso e al transito e alla sosta dei soli residenti e poi intorno a questa zona più alta ci sarà l'introduzione della cosiddetta ZTPP ossia la zona traffico pedonale privilegiato dove ci sarà un limite massimo di velocità a 30 km orari per le macchine e dove ci sia diciamo così sia privilegiato il pedone dove sia privilegiato chi va a piedi questo perché vogliamo fare in modo che il centro storico torni ad essere un luogo anche di incontro e un luogo dove ci sia commercio di qualità ci saranno anche delle modifiche in alcuni sensi di marcia io non voglio dire tutto perché poi ci sarà una conferenza stampa nella quale presenteremo questo piano ma ci saranno anche delle modifiche in alcuni sensi di marcia per evitare uno dei problemi che attanaia il centro storico ossia il fatto che il centro storico negli ultimi anni è diventato un quartiere di transito un quartiere di passaggio per andare da una parte all'altra della città e quindi si passa dentro il centro storico non per andare al centro storico ma per raggiungere un'altra parte della città noi vogliamo evitare questo vogliamo evitare che il centro storico sia un quartiere di transito vogliamo che il centro storico sia un luogo vivibile sia per i residenti sia per chi lo vuole vivere nel fine settimana o nella sera stiamo pensando anche a una regolamentazione delle attività commerciali che permetta e agevoli l'apertura di nuove attività economiche di nuovi esercizi commerciali nel centro storico questa nuova viabilità secondo noi darà riqualificherà il centro storico lo renderà più vivibile e in qualche modo inizia il percorso di progressiva pedonalizzazione del centro storico che è uno degli obiettivi di questa amministrazione noi a partire dal prossimo autunno inizieremo un investimento di 8 milioni di euro sul centro storico i cosiddetti progetti plus dei quali molto si è parlato noi abbiamo fatto un lavoro davvero ciclopico per modificarli per renderli più adeguati a quello di cui ha bisogno la città riqualificheremo le tre piazze principali del centro storico e il centro storico diventerà un'isola pedonale in qualche modo di fatto e quindi ci sarà un ulteriore passaggio quando saranno finiti i lavori del centro storico adesso partiamo con una ZTL rigida in questa zona della città una parte più alta quando saranno finiti i lavori del plus e ci saranno le piazze riqualificate istitueremo l'isola pedonale quindi istitueremo una zona assolutamente vietata al transito anche dei veicoli dei residenti ecco così un processo come lo dice il nostro assessore Ubertini non un progetto ma un processo che ci permetterà e permetterà ai ratini di vivere sempre meglio il proprio centro storico ecco due punti importanti del centro storico che mi interessava capire via Terenza e Varrone via principale storicamente parlando come verrà pensata a livello commerciale e il mercato coperto o l'ex piazza delle erbe cioè qui parliamo del centro storico da oltre che a riqualificare ma proprio dare vita a ripristinare un contatto con il tessuto cittadino in quei luoghi che storicamente hanno caratterizzato la città allora sull'ex mercato coperto sul legale dell'ex mercato coperto abbiamo da poco appaltato il progetto di riqualificazione di tutto il piano terra del comune del palazzo comunale dunque anche del mercato coperto e confidiamo nel fatto di poter utilizzare una parte dei soldi del plus per riqualificare e riorganizzare il piano terra del palazzo comunale ed anche il mercato coperto per quindi dare al mercato coperto nuova vita e dare anche luoghi per la promozione delle attività economiche della città via Terenzio Varrone è una via che è stata in questi anni martoriata un po' perché era stata ripavimentata pensando a una via dove non si potesse passare con le auto e in realtà così non è stato e martoriata anche dall'accesso al parcheggio coperto che purtroppo limita anche le scelte dell'amministrazione rispetto alla viabilità noi abbiamo pensato una modifica del senso di marcia di via Tancredi per evitare che via Terenzio Varrone sia una sorta di tangenziale utilizzata dalle macchine dalle auto per arrivare a Villa Ratina a Campoloniano in un'altra parte della città quindi secondo noi questo eviterà il passaggio eccessivo di autoveicoli in via Terenzio Varrone è evidente che la presenza dell'accesso su via Terenzio Varrone in qualche modo limita alcune nostre scelte però anche qui vogliamo che progressivamente via Terenzio Varrone torni ad essere una via commerciale per farlo c'è bisogno a mio modo di vedere di renderla maggiormente pedonale e quindi insomma gli atti che facciamo e che faremo vanno proprio in questa direzione in una progressiva pedonalizzazione delle strade del centro storico e in particolar modo delle strade più importanti e fra queste c'è anche Vettelanzio Varrone che come tutti ricorderanno è la strada commerciale storica della nostra città torniamo al discorso proprio delle strade abbiamo fatto un discorso tra i tanti temi che sono trattati in maniera direi analitica oggi lo faccio in maniera molto più veloce ma stiamo dando delle notizie anche a chi ci segue da casa centro storico strade igiene purizia questo è un altro tema che si percepisce abbiamo avuto la possibilità di guardare in questi mesi in queste settimane una difficile vuol dire non stare e mantenere il decoro urbano perché? ce lo siamo chiesti un po' tutti noi abbiamo come ho detto prima in un bilancio quasi come dire di sussistenza che è quello che andremo a fare nel 2013 anche negli anni successivi però ti chiedo perdonami signor Zendro voglio farti quest'altra poi ti lascio rispondere in un momento dove il comune ha difficoltà a stanziare fondi per quello che riguarda il decoro delle strade del centro storico e anche le periferie io vorrei capire è possibile che la cittadinanza lo spirito civico di appartenenza di un comune non porti a essere un pochino più predisposto a partecipare affinché come dire il mio pezzo di strada se non ci pensa il comune perché ahimè non hai fondi per farlo ci penso io allora prima stavo cercando di fare un ragionamento che prevedesse anche questo tipo di considerazione come dicevo prima noi nel 2013 nel 2014 e anche probabilmente dopo dovremo fare dei bilanci molto rigorosi perché dovremo riportare in equilibrio le entrate e le uscite di questo comune ma dovremo anche cercare di determinare un po' di avanzo primario tra entrate e uscite per avere i soldi necessari a ripianare il debito che purtroppo abbiamo ereditato e quindi pagare i fornitori pagare tutti quelli che aspettano da anni di essere di essere retribuiti per il lavoro che hanno svolto per l'ente e quindi appunto avremo dei bilanci molto molto dimagriti nelle spese vogliamo però riqualificare la spesa di questo comune e per riqualificarla dobbiamo e vogliamo individuare delle priorità nel 2013 le priorità saranno risorse per le politiche sociali perché purtroppo aumenta il disagio e aumenta la necessità per il comune di avere fondi anche per andare incontro alle emergenze quotidiane abbiamo centinaia di sfratti al mese centinaia di persone che vengono da noi per chiedere un aiuto e per chiedere un sostegno abbiamo circa duemila richieste di sussidio al comune di Rieti e anche per questo stiamo valutando l'ipotesi di appostare una cifra considerevole nel bilancio del 2013 per iniziare la sperimentazione di una sorta di reddito minimo per chi non ha un lavoro e per chi non ha diciamo così un reddito sufficiente e dignitoso quindi priorità sarà politiche sociali la priorità saranno le manutenzioni della città e quindi rimettere in sesto le strade cittadine rimettere in sesto i nostri i nostri edifici e in qualche modo fare un lavoro sul decoro urbano e anche sulla pulizia della nostra città e poi investire sull'edilizia scolastica io ho girato le nostre scuole ho girato anche le scuole di competenza di altri enti sono troppi anni che in questa città ma più in generale nel nostro paese non si investe sull'edilizia scolastica sia in termini di sicurezza sia in termini di efficientamento energetico sia in termini di riqualificazione dei nostri edifici noi puntiamo molto sulla scuola e pensiamo che sia una delle priorità di questo comune soprattutto nei suoi primi anni di mandato noi vogliamo investire sull'edilizia scolastica abbiamo preparato e abbiamo pronto un piano di circa 200.000 euro per mettere in sicurezza e per ristrutturare e riqualificare i nostri edifici scolastici perché credo che questa sia appunto una delle nostre priorità sulla pulizia qui si si incrocia si incrociano le competenze del comune e le competenze dell'azienda servizi municipali che è una nostra partecipata nella quale noi abbiamo il 60% le vicende dell'ASM sono note sono anche state sono oggetto di indagini da parte della propria della repubblica per quello che è successo negli anni passati stiamo anche lì lavorando non solo al ripristino della legalità ma anche alla riorganizzazione di un'azienda che sia davvero un'azienda e si comporti come un'azienda qualche tempo fa ho avuto l'onore di nominare la dottoressa Enza Bufacchia la presidenza dell'azienda e devo dire che insomma la nuova presidente sta facendo un lavoro duro un lavoro quotidiano per far diventare quella un'azienda che possa non solo garantire servizi efficienti ed efficaci alla popolazione ma possa anche determinare in futuro un'occasione importante per la nostra economia locale anche lì abbiamo un'azienda che ha decine di milioni di debiti con i loro fornitori abbiamo un sistema di raccolta e di gestione del ciclo dei rifiuti che è assolutamente inadeguato anche alle necessità ma soprattutto alle normative di legge che ci impongono di fare la raccolta differenziata in maniera assolutamente spinta se pensiamo che entro il 2012 gli enti locali dovevano raggiungere il 65% di raccolta differenziata capiamo quanto la nostra città ma più in generale il nostro paese e la nostra regione sia assolutamente indietro noi approveremo nell'arco di pochi giorni una delibera di indirizzo che prevederà il nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta che ci dovrà portare scusate il gioco di parole a raggiungimento del 65% di raccolta differenziata nell'arco di poco tempo dentro l'azienda stiamo lavorando per riorganizzarla e per fare in modo che la città sia una città pulita e dove ci sia il decoro io punto molto sulla raccolta differenziata perché penso che da lì si possa ottenere molto in termini di decoro urbano riuscire a fare una buona raccolta differenziata porta a porta significa non solo fare in qualche modo un favore all'ambiente e a noi stessi ma significa entrare nella civiltà abbandonare il medioevo nel quale siamo stati costretti ed entrare nella civiltà ma significa anche tenere le nostre strade e tenere la nostra città più pulita sicuramente insieme alle manutenzioni decoro urbano significa anche pulizia della strada e su questo c'è un impegno convinto dell'amministrazione c'è un impegno convinto dell'azienda a lavorare insieme e sin dai prossimi giorni entrerà in funzione una vera e propria task force una campagna per il decoro urbano che coinvolgerà non solo le manutenzioni delle nostre strade ma anche la pulizia della città quindi questa è una delle priorità alle quali vogliamo assolutamente dar seguito siamo in conclusione con questo primo spazio speriamo di trovarne altri momenti per chiacchierare in maniera molto distensiva con il primo cittadino del Comune Rieti ti voglio fare una domanda diversa chiederti quale Rieti ti immagini tra quattro anni perché la stai costruendo secondo quello che è il tuo programma elettorale stai portando avanti i punti che hai scritto li stai cercando di farli assimilare stai anche riadattandoli per certi aspetti a quelle che sono poi le dinamiche economiche del Paese le varie difficoltà che ci sono ecco se tu dovessi fare una proiezione di Rieti nel 2015 quale Rieti ti aspetti di vedere o vorresti vedere anche per capire un po' quale sarà l'amministrazione comunale guidata da te e come la preparerai arrivare a un altro una tappa importante quella appunto di una sfida perché l'hai detto tu all'inizio di questo spazio sei convinto di vivere di far vivere di guardare una crisi lunga molto lunga e questo significa che avremo anni di grandissima difficoltà quindi qui subentra la lungimiranza dell'amministrazione comunale ma questa è una bella domanda e mi voglio conservare la risposta anche per i prossimi appuntamenti il lavoro che stiamo facendo è un lavoro molto difficile molto duro quotidiano in mezzo veramente a tante emergenze a tanti problemi io insomma io chi insieme a me sta conducendo questa impresa perché di impresa si tratta vorrebbe che questa città diventasse una città europea dove si vivesse come si vive in tanti piccoli centri nella nostra Europa e quindi una città dove ci sia una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti una città dove si possa attraversarla in bicicletta o a piedi in sicurezza dove ci sia un trasporto pubblico un trasporto collettivo efficiente e dove ci sia un'amministrazione pubblica che tratta i cittadini tutti allo stesso modo prima ho detto c'è un tema in questo paese c'è un'emergenza che è la lotta alla corruzione e credo che la nostra città da questo punto di vista non è un'eccezione anche qui c'è bisogno di una buona amministrazione c'è bisogno di onestà c'è bisogno di una nuova etica pubblica perché in questi anni il comune è stato trattato come una preda da spolpare e purtroppo in qualche modo la città una parte della città è stata connivente e una parte della città ha subito senza poter in qualche modo ribellarsi e forse anche perché non conosceva quello che succedeva all'interno di questa amministrazione noi abbiamo uno spirito fortemente improntato nel rispetto della legalità perché pensiamo che in questi anni così non è stato quindi quello che vorremmo restituire alla città fra quattro anni quattro anni e mezzo che è quello che insomma a meno di sorprese ci ci aspetta è una città migliore soprattutto da questo punto di vista dal punto di vista della legalità dal punto di vista della legittimità è una città nella quale appunto si possano fare le cose che si fanno ormai in tutto il mondo e in tutta Europa non è più possibile dire ah questa cosa succede dovunque ma a Riedi non è possibile dobbiamo farla uscire questa città da un cono d'ombra nella quale è stata volontariamente e scientificamente abbandonata e costretta vogliamo farla diventare una città un po' più moderna e credo che per farlo ci sia bisogno soprattutto di una guida politica e amministrativa che possa guardare in qualche modo possa avere uno sguardo che soffi l'orizzonte che quindi possa guardare anche a quello che succederà domani o dopo domani noi possiamo stiamo anche facendo delle scelte impopolari ne siamo consapevoli però non siamo non stiamo qui perché vogliamo essere rieletti la prossima volta siamo qui perché vogliamo dare un servizio alla città perché vogliamo risanare questo comune vogliamo renderlo una macchina in grado di dare servizio alla città vogliamo fare in modo che questo comune sia utile all'economia sia utile alle imprese sia utile ai giovani sia utile ai cittadini e confidiamo nel fatto che questo lavoro possa anche in qualche modo convincere i nostri concittadini però quello che stiamo facendo è proprio questo non stiamo governando per il consenso ma vogliamo governare stiamo governando per cercare di rimettere le cose a posto e per cercare di lasciare fra quattro anni e mezzo a chi verrà dopo di noi una città migliore di quella che abbiamo trovato e per farlo però c'è bisogno del contributo della comprensione e della fiducia di tutti i nostri concittadini le prove le prove da superare saranno tantissime però pensiamo che questa sia la strada obbligata da intraprendere non solo a Rieti ma in tutto il paese e credo che in qualche modo il messaggio che ci arriva anche dalle urne io sono convinto che le elezioni siano sempre lo specchio del paese e lo sono state anche in questa occasione nelle recenti elezioni politiche noi dobbiamo interpretare il il segnale che gli elettori hanno dato nelle urne noi dobbiamo sapere intercettare quella voglia di cambiamento quella voglia di rinnovamento che secondo me i cittadini hanno voluto esprimere e penso che le amministrazioni locali sono chiamate soprattutto a questo chiamate ad aprire un grande dialogo con le città con le comunità restituendo dignità autorevolezza e legittimazione alle istituzioni pubbliche e penso che questo sia un impegno che vada anche oltre gli schieramenti politici dobbiamo far tornare le amministrazioni pubbliche ad essere dei luoghi nei quali i cittadini possano in qualche modo avere fiducia nelle quali i cittadini possano avere fiducia bisogna ricostruire un rapporto positivo tra i cittadini e le istituzioni questo è l'impegno che noi abbiamo quindi tante cose insieme per fare di questa città una città migliore c'è bisogno di una grande alleanza fra il governo di questa città e fra i cittadini di questa città noi vogliamo chiamare a raccolta i cittadini per permetterci e per permettere alla città di compiere questo salto in avanti siamo convinti di poterlo realizzare è uno sforzo sicuramente molto grande io credo che la strada intrapresa sia quella giusta e quindi una buona amministrazione che sia in grado di risanare questo comune che sia in grado di dare questa città una prospettiva di futuro e credo che insomma in questi pochi mesi abbiamo iniziato a mettere le basi per questo processo di rinnovamento e di risanamento della città intera perché se risaniamo il comune significa che è possibile risanare l'intera città bene io ringrazio il primo cittadino del comune di Rieti sindaco Petrangi grazie per la tua disponibilità noi te lo anticipiamo ti chiederemo ancora di parlare con noi di essere ospite nel nostro spazio all'interno di frontiera web tv e ovviamente anche sul cartaceo quindi ti chiederemo di continuare a prestare la tua disponibilità in questo spazio per capire anche per comunicare informazioni notizie e anche progetti per quello che riguarda Rieti e le sue frazioni ecco questo è un tema che non abbiamo mai toccato però non ci dimentichiamo ti auguro una buona giornata io vi ringrazio ti ringrazio abbiamo bisogno di una città viva e penso che anche il ruolo degli organi di informazione sia importante da questo punto di vista bisogna controllare quello che fanno gli amministratori bisogna dare voce ai cittadini bisogna rendere questa città ancora più viva di quello che è io se mi dovessi trovare a scegliere preferirei magari una lampadina spenta in più ma una città più viva perché credo che noi questa città ha bisogno anche di questo ha bisogno di uscire dal torpore e credo che insomma quello che si sta facendo anche dal punto di vista della comunicazione istituzionale della partecipazione dei cittadini delle iniziative culturali che il comune promuove credo che sia un bel messaggio di come questa amministrazione comunale vuole interagire vuole coinvolgere i cittadini nella costruzione della nuova riedi grazie grazie a voi buon lavoro prossima puntata con i nostri telespettatori di Frontiera Quai TV Grazie a tutti